Allora, io lavoro con gli adolescenti con autismo da molti anni. Mi sono chiesto sempre perché non si tocca mai il tema del mestiere dell'educatore. Si parla del mestiere del medico, si parla del mestiere del professore, si critica, si parla bene o male. Ma sempre mi sento, diciamo, no, non mi sento mai rappresentato perché il mestiere dell'educatore non si tocca, no? E sempre mi chiedo, questa collezione di buoni comportamenti insegnati a tavola ai ragazzi, no? E ragazzi trattati più come giocattoli che come bambini o persone, no? Nella realtà che cosa portano? Perché il mondo non è un tavolo. Il mondo è questo che abbiamo qui. E se io mi so comportare bene un tavolo e tolgo il tavolo, che succede? Quindi questa cosa qua, con gli adolescenti si vede molto spesso, però non si tocca mai questo tema. Che succede? Non è importante o è un tema, diciamo, molto spinoso da toccare in questi compagni? Brevemente, tra l'altro credo che abbia avuto modo di lavorare insieme all'agrario, quindi non in un tavolo, ma in mezzo ai campi di, insomma, quei ragazzi autistici all'agrario, un'esperienza, insomma, di inserimento lavorativo con i ragazzi. Allora, è vero che il problema degli educatori spesso non viene posto, perché è una delle realtà nella situazione italiana in cui la formazione degli educatori, in particolare delle persone che farebbero, sono a metà tra educatori, in altri paesi sono dei terapisti della riabilitazione psichiatrica. In Italia esistono alcune scuole di terapisti della riabilitazione psichiatrica, che di fatto fanno delle funzioni di educatori, ma esclusivamente per gli adulti. Quello che voglio dire è che non esiste, o esiste molto poco, una figura come quella dell'educatore che costituisce, come il logopedista, come lo psicologo, come lo psicomotricista, un elemento cardine nell'equip multiprofessionale. Detto questo, credo che dalle relazioni di questa mattina, però, c'è un discorso che forse il professor Power l'ha esplicitato molto bene, credo che tutti quanti, medici, educatori, logopedisti, eccetera, che lavoriamo con le persone con autismo, dovremmo in qualche modo fare un passo indietro e chiederci se abbiamo, al di là della nostra competenza specifica, mediche, educatori, logopedisti, eccetera, quelle competenze di base che ci permettono in qualche modo di affrontare il rapporto con il ragazzo autistico, ad esempio l'adolescente, che in alcuni casi è vero, è più utile fare un intervento di tipo non a tavolino, in altri momenti bisogna anche con l'adolescenza lavorare in modo strutturato, cioè io penso che il messaggio che questa mattina è stato ripetuto continuamente è che dobbiamo diffidare da chi ci dice che esiste un unico modo per lavorare con l'autismo. Così come esiste lo spettro di disturbi autistici, deve esistere uno spettro di interventi sull'autismo, che vanno dagli interventi più strutturati, quasi l'OVAS, agli interventi più socio-pragmatici. Un bravo professionista, una brava equip, e chi sia individualmente che come equip sa rapportarsi all'eterogenità dello spettro autistico con una eterogenità di strumenti terapeutici, tutti però scientificamente fondati. Salve, la mia domanda è un po' aperta, non so chi vuole rispondere. Prima di tutto mi ha colpito un po' quello che ha detto la dottoressa in bimbo, di una certa forma di stanchezza, no? Perché qua sono state tante cose, e poi sapere che al di fuori verranno dette cose che non hanno una valenza scientifica. Anche se io come genitore entro sempre in discussione, no? Perché anche il scientifico era il discorso della madre per Gorifero. Cioè, secondo qualcuno c'è una valenza scientifica. Io sono arrivato dopo, ringraziando Dio, non l'ho vissuto quel periodo, anche se mia figlia ha fatto un paio d'anni di psicanalisi, qualche cosa del genere. E verranno dette tante cazzate, oggi, in giro. E visto che mi piace vincere a me, io la dico più grande di tutti. Ai nostri figli facciamo l'esorcismo. Esiste un demone che si chiama Mauron, che se uno va su internet, lo vede, dice il demone dell'autismo. Questo si trova su internet. E io penso che sia un'emerita cavolata, un'emerita cazzata. Però non ci rendiamo conto che non c'è più tempo. Noi genitori non abbiamo più tempo. Io vedo generazioni andate via. Mia figlia ha 16 anni e sento parlare di cose che mi sembra che stanno chiudendo. Cioè, se chiudono le stalle quando i buoi sono scappati. Cioè, non so se ci rendiamo conto. Qua veramente stanno associazioni e associazioni dei genitori stanche. Cioè, non c'è più quel tempo che diciamo oggi c'è questo e tra due anni, tra tre anni, tra quattro anni. Io ho sentito 5-6 anni fa le linee guida della Simpia. E per me erano rivoluzionarie. Io non so se c'entriamo. Poi noi genitori siamo sempre così. Se prima di incontrarsi con l'altro ci dobbiamo fare litri di ammorbidente, ci dobbiamo bere, fare le docce con l'ammorbidente. Ma la realtà nostra è questa. Mia figlia ha fatto tutte le analisi che doveva fare e su tutte era negativa e nonostante questa è autistica. Io veramente chiedo, come genitore di una ragazza di 16 anni, che oramai è una donna, certe cose non sono più accettabili. Io spero che veramente venga una spinta sull'acceleratore da parte di tutte le persone interessate. Tutte quelle persone che nella propria vita hanno preso quell'indirizzo professionale che tu al 27 prendi uno stipendio perché hai fatto quella scelta. Io non lo so, insomma. Io veramente spero di non sentire più associazioni dei genitori che dicono sono stanco. Grazie. Io veramente ero stanca della giornata, non è che ero stanca del... No, e questo sì, no, penso che bisogna un pochino, un pochino, insomma, cercare di cambiare il punto di vista e essere... Prima di tutto partecipare alla vita associativa, documentarsi. Questo è un ruolo che spetta a ogni cittadino che abbia un diritto da difendere. Concentriamoci poi, io parlo da genitore, sui diritti delle persone con autismo, più perché si è anche lavorato molto sui genitori, non so come dire, mentre sono i nostri figli poi che vivranno, soprattutto quando noi non ci saremo più. Ecco, un disagio. Io penso che il... Quello che voglio richiamare è lo spirito, prima di tutto di collaborare con le associazioni che propongono, non mi viene la parola, promuovono un approccio basato sui diritti, un approccio basato sui diritti vuol dire anche diritto a delle cure efficaci, per quanto possa essere, l'abbiamo visto, anche gli scienziati ci dicono che qualcosa funziona, qualcosa non funziona. Siamo in un mondo, cioè purtroppo, per fortuna, non lo so, ci è capitato anche una cosa complessa, e che a chi come ha detto il professor Persico stamattina, sicuramente la parola complessa era quello che veniva. Ci è capitato questo, e questo dobbiamo gestire, non chiediamo più, non stiamo sempre a chiedere, lo spreco di risorse si è fatto anche perché sono state date, nei tempi in cui queste risorse c'erano, è stato fatto uno spreco di, non solo gli animali, non solo la musicoterapia, non chiediamo sempre, chiediamo, non chiediamo sempre tanto e accontentiamoci di un progettino, della cosa, chiediamo un sistema che funzioni a sistema, poi ognuno, poi nell'intervento individuale, nella famiglia, fa le scelte, anche secondo l'individualità del ragazzo, io ho un ragazzo di 23 anni con sindrome di Asperger, è diverso da una ragazza femmina con autismo più severo e quindi cerchiamo di, questo era l'invito, cerchiamo di essere un soggetto politico credibile, perché se noi facciamo 200.000 associazioni i cui nome prevalente è che i bambini stanno sulla luna o sono figli delle fate, non siamo, siamo degni di un, cioè, prendiamo l'elemosina, ecco, non so come dire, quello che c'è di risulta, si dice a Milano, non so a Roma come si dice, quello che c'è d'avanzo, invece ha sistema, quindi dobbiamo essere uniti e, secondo me, appunto, cercare di avere un ruolo politico che sottolini i bisogni essenziali e anche le famiglie non possono, io lo so che è difficile per carità, io poi ce n'ho uno solo, c'è chi ce n'ha due, però, insomma, anche persone che ne hanno due so che si comportano, è difficile, lo capisco, ma la richiesta deve essere sul, non qualcuno se pigli questo, so gestire, cioè, anche la richiesta non può essere quella della custodia, della mera custodia di queste persone, che è costosissima, anche per le persone con sindrome di Asperger, in età adulta, si arriva a una cronicizzazione, se non c'è intervento, che porta a una disabilità gravissima, indipendentemente dal livello cognitivo. Ecco, quindi questo è un problema, io penso che noi dobbiamo lavorare per i nostri diritti complessivi, per i diritti complessivi dei nostri figli, a una vita dignitosa, a trattamenti efficaci, sapendo che ci muoviamo su un terreno estremamente complesso, non affidandoci ai santoni, che i santoni, non solo i santoni, ma anche il terapista di turno, il professore che mi dà più figli, cioè cerchiamo di fare questo, diciamo, di essere un soggetto politico che può interloquire con i vari ministeri o con le ASL, piuttosto con una autorevolezza. Se noi ci dividiamo in 200 mila e pensiamo i bambini speciali e i pinguini sul coso, cioè veramente non ne usciamo, non usciamo da questa condizione di gente che va a chiedere l'elemosina per i propri figli, ecco, questo è, non è che sono, ero stanca, della, e dobbiamo stare un pochino più, ecco, uniti fra noi sul, e anche promuovere presso le persone che conosciamo con determinazione, appunto, una visione basata sui diritti, che non è che io so, e quindi sugli approcci scientificamente validati, è un diritto, non è una scelta ideologica che mi sta simpatico quello delle BA, non è quello, è il diritto a avere la cura al momento, l'intervento abilitativo, perché non si parla di cura, al momento ritenuto più efficace. E questo dobbiamo insistere su queste cose qua. Io non so manco dove trovi il tempo per andare su internet a vedere che c'è il santo, io non ho tempo per leggere, cazzate, quindi questo aiuta, impegnatevi nelle associazioni, leggerete meno sciocchezze. Grazie. C'era un'altra domanda. C'è una domanda, prima. Ah, salve. E' colpa mia, quello che passava a rullo, come si suol dire. Così si sente meglio. Allora, quello scritto che passava a rullo prima, non avevo messo, mi ero dimenticato di mettere, il titolo che è giornata dell'autismo, ministro Balduzzi, più impegno delle istituzioni e grazie alle famiglie. Quello è il comunicato stampa che magari se possono mandarlo adesso nuovamente a rullo come prima, forse leggerete con maggiore attenzione. E' un comunicato che il ministro ha emesso oggi, questa mattina, in occasione aggiornata, come già l'anno scorso, nel quale il ministro, per quello che è in suo potere, la di Fiandra ha detto chiaramente che non può andare nelle regioni col bastone a dire voi non avete fatto, però per quello che è in suo potere è una spinta che dà una spinta che dà alle regioni perché si muovono, agli enti locali perché si muovono, al ministero della istruzione, il MIUR e dell'università della ricerca perché si muova. Il ministero dell'istruzione, questo movimento l'ha fatto, avete sentito il dottor Ciambrone prima cosa ha detto, non è poco mettere a livello di tutta l'Italia dei corsi specialistici sulle particolari disabilità, parte sull'autismo, parte sul ritardo mentale, parte sulla disabilità motoria perché anch'essa ha dei problemi e parte sui disturbi specifici dell'apprendimento che sono iniziati questi corsi nel giugno del 2012. Ecco, e guardate, questi corsi non sono indirizzati genericamente al popolo, sono indirizzati a coloro che hanno il bambino con autismo. Quello che ha detto, ve lo sottolineo, è l'accordo con gli uffici scolastici regionali e le università che fanno questi corsi affinché chi va a frequentare questi corsi che dureranno praticamente un anno tutti i venerdì pomeriggio e tutti i sabati mattina, non è poco, sono la bellezza di 60 crediti formativi universitari, quindi un anno completo di corso, saranno specificamente dedicati a questi argomenti. Dopodiché, se le università faranno tra virgolette cose egregie, saranno corsi egregi, se le università facessero, Dio non voglia, corsi indecenti, saranno preparazioni indecenti, e lì bisogna mettere le antennine per cercare di capire cosa sta succedendo lì dentro, perché come diceva Laura prima e poi anche il genitore dopo, non è per niente è morta l'idea che è la mamma la colpa di tutto. Proprio stamattina con Nicoletti in Radio 24 diceva mi hanno chiamato e mi hanno detto esplicitamente è colpa sua, lei è andata a lavorare subito dopo che è nato il figlio, non è vero, non subito dopo, ma comunque non l'ha lattato per tutto il periodo che doveva, è colpa sua se il bambino è diventato autistico. Questo è successo a Roma adesso. Quello che si è presentato a uno mattina, stamattina, è Bianchi di Castelbianco. Quello che ha raccontato e lo potete andare a trovare nel suo sito che su 100 bambini trattati 74 erano migliorati e 25 erano addirittura guariti, guariti dall'autismo e non erano guariti i borderline ma erano guariti anche quelli che erano pienamente all'interno dello spettro autistico. Ora, magari queste cose fossero vere, le hanno presentate dicendo che è incredibile il risultato, bene, è talmente incredibile che io non ci credo. Preferisco credere a Mauron, scusate. Preferisco credere a Mauron. Ecco, questo è. Quindi, no, ve lo dico perché se voi potete alle 18.30 venite con noi e andiamo a distribuire i bollettini dell'ANXA dove c'è, dove ci sono le linee di, le linee che sono state approvate il 22 novembre in, sul Campidoglio perché c'è una conferenza stampa che appunto viene fatta prima di andare a accendere l'arco, l'arco di Costantino, non l'arco di Tito, mi raccomando, l'arco di, questo è un invito che rivolgo a voi, 18.30 in Campidoglio. Una domanda invece per la dottoressa. Lei ha specificato che ci sono gli esami di genetica e di biochimica che devono essere fatti sull'individuazione di qualche cosa. oggi esistono da poco perché quegli esami e quei sequenziometri moderni che fanno la sequenza di tutto il genoma. Oggi esistono anche delle analisi di biochimica che al Policlinico vengono fatte correntemente che sono quelle sulle malattie rare metaboliche che addirittura in alcune regioni sono consolidate 40, a Verona erano addirittura 90. ecco io allora mi chiedo il pediatra in quanto tale deve collaborare col genetista perché io ho paura che un pediatra non sia in grado per esempio di aggiungere CDKL5 al MACP2 e neanche il FOX come fa a distinguere il FOX CDKL5 e il MACP2 guardando in faccia la bambina? Ecco allora io chiederei veramente dato che non costano tanto questi esami pensate che Outing Speaks ne ha mandati 10.000 in Cina 10.000 ne ha mandati di campioni perché vengono esaminati a tappeto da quel centro cinese dal quale si servono gli Stati Uniti d'America no? perché cosa serve? ma non conviene scusate costano 4 soldi costano 4 soldi e bambini che fino adesso li hanno trovato tutto normale hanno scoperto figlio di un amico mio qui di Roma 7 mutazioni di nuovo ciascuna delle quali ha come appendice sempre probabile ma è sicuro ma uno dei problemi che porta all'autismo allora mi chiedo non è un problema di costi è un problema di cambio di mentalità anche dei pediatri bravi come siete voi che dovete imparare a collaborare con i genetisti anche perché ci sono coppie che hanno bambini piccoli e possono avere anche l'idea di metterli insieme un altro allora la percentuale qual è? lo sapete? allora la ringrazio perché è verissimo il pediatra deve collaborare col genetista e io ho la fortuna di lavorare in un ospedale dove questo è possibile qualora non ci fosse questa possibilità è d'obbligo da parte del pediatra inviare come ha detto anche il collega ad una struttura in cui si possa effettuare una consulenza con il genetista perché solo il genetista deve dare indicazione specialistica per eseguire gli accertamenti noi abbiamo la possibilità di fare alcuni esami genetici tra cui il CGH che cerca queste mutazioni in modo random ma abbiamo anche il dovere che questo esame venga interpretato da una persona competente perché potrebbero essere anche segnalate le mutazioni che non sono correlate ad oggi con i disturbi dello spettro autistico quindi assolutamente sì grazie sentiamo l'ultima domanda salve io faccio parte di un gruppo di lavoro e di ricerca che si occupava in collaborazione con l'università di Tor Vergata proprio per cercare non un unico dicevo il nostro faccio parte di un gruppo di lavoro e di ricerca il cui intento è proprio quello di individuare non un unico trattamento visto che è impossibile ma trattamenti specifici per problematiche specifiche la mia domanda era rivolta proprio alle linee guida e alle evidenze scientifiche perché nel 2011 quindi prima dell'uscita delle linee guida dell'istituto nazionale della sanità noi c'eravamo rifatti alle linee guida del gruppo di Volkmar sempre dell'università di Yale che però non è stato citato dal dottor Powers nell'intervento di stamane che faceva però parte dello stesso gruppo sempre di Yale per cui mi chiedevo in maniera molto tecnica se c'erano delle differenze su queste meta-analisi basate sulle evidenze scientifiche e come mai appunto vengono citate solo alcune cioè se c'è una selezione a monte o cioè quindi con cognizione di causa o se è dettato da cose pratiche allora il metodo per motivi di tempo forse non è stato illustrato in dettaglio però è possibile recuperarlo in estenso sul sito e quindi sulla linea guida direttamente prevede per le linee guida intendo quelle dei superiori di sanità una meta-analisi con delle parole chiave sui motori di ricerca meta-analisi che può essere quindi una ricerca estesa per anni con una categorizzazione degli studi e quindi anche una valutazione della forza della raccomandazione che deriva da quello studio quindi nulla dovrebbe essere sfuggito adesso io non le so rispondere nel dettaglio su quella linea guida però è caratteristica di questo tipo di metodo rigoroso e che sia assolutamente riproducibile ecco c'è chi sa rispondere mi sono anche consultata con il dottor powers e ne io ne lui conosciamo nessuna linea guida è una ricerca meta-analisi basata sull'evidenza del gruppo di Volkmar uscito nel 2011 nello specifico e del trattamento dello spettro autistico di tutto lo spettro si perché c'erano proprio capitoli sulla comunicazione può darsi ma noi non abbiamo l'elenco delle studi che sono stati esaminati ma non abbiamo l'elenco nella linea guida di quali studi sono stati esaminati e quali no no non è una linea guida essendo è facendo parte solo per coincidere però fa parte del metodo il fatto che sia assolutamente riproducibile quindi rimettendo le parole chiave gli anni sui motori devono uscire le stesse e andando sul sito del ministero dell'istituto è possibile ricostruire tutti i singoli lavori analizzati quindi sicuramente è possibile verificare anche se c'è anche questa nel dettaglio Russell Powers Are you referring to the book on evidence-based practice for individuals with autism? Ok and then the meta-analysis you're referring to was a chapter that was written by Brian Reichow Ok so the book as a whole was intended to review all of the literature related to different areas in autism lo scopo del libro era di fare una revisione dei trattamenti per l'autismo per esempio per esempio c'è un capitolo sul trattamento dei disturbi comportamentali gravi I have a slightly different view than you do because I think that the guidelines that were discussed earlier today by you were very consistent with the meta-analysis that was presented in the chapter by Brian Reichow Per quello che ho sentito prima comunque la linea guida di cui stiamo parlando la linea guida dell'IS è coerente con le conclusioni di Brian Reichow nel libro di Volpe because when Professor Vicari was discussing the different treatments that were acceptable evidence and where the evidence was not available he was consistent with the material that was in that particular chapter but also consistent with the material that I was presenting as well so I would say that your guidelines are broadly consistent with that because l'intervento che ha fatto il dottor Vicari per illustrare le linee guida era assolutamente coerente sia con il capitolo di Richow che con il mio intervento sul trattamento per l'autismo I think the important thing to remember for all of us is that guidelines evolve they change and they change when we get new evidence so the guidelines that you have today in your document should be different than the guidelines you have in five years quindi la linea guida di oggi di adesso dovrebbe essere diversa da quella che sarà pubblicata fra cinque anni but broadly the different positions that were discussed today by all of the presenters were very consistent with the the practices that are established by some of the documents in the US that talk about appropriate and effective intervention that's evidence based for people with autism I would only offer one last comment since I have the opportunity though is it okay in the presentation by Mr. Siren Sion which was excellent there was a table that he showed that had the types of treatments that were provided the percentage of treatments that were provided by different for different individuals with autism for me from a public policy and political perspective it was the most important slide that he showed because you could take that slide and identify the different treatments that were being used by people with autism and you could compare them to Professor Vicari's slide of treatments that are not effective and then you can calculate the amount of money that is being spent on ineffective treatments for a large percentage of the population of children and adolescents and that money is wasted resources and it's inaccurate and it's inappropriate perché confrontando i trattamenti che vengono somministrati da quelli che invece dovrebbero essere raccomandati si scopre che una quantità di denaro viene speso per trattamenti non raccomandati e che si tratta di risorse sprecate perché tutti abbiamo problemi di risorse economiche e di tempo nel trattamento delle persone con autismo e quindi è necessario non sprecare risorse non investire in trattamenti avere il coraggio di non investire in trattamenti che non sono basati sull'evidenza e quindi non hanno evidenza di efficacia e poi ha detto anche che quelle slide di confronto sono la parte veramente più importante della conferenza grazie professore lasciamo allora la conclusione al dottor marino una sola notazione di servizio scusatemi ma abbiamo la necessità di ricordarvi di riconsegnare le cuffie al desk prima di andar via possiamo fare un'altra domanda c'era prima una qui però se ne accettiamo un'altra perché si era prenotata la signora prego facciamo se voi siete d'accordo chiudiamo le domande la mia domanda è direttamente al dottor Valeri diciamo da mamma sono stata sempre molto positivamente coinvolta dal progetto del Babin Gesù perché è stato il primo sforzo reale in Italia di mettere insieme finalmente armonicamente tutte le persone tutti i soggetti che girano intorno alla persona autistica e questo secondo me è stato uno sforzo particolarmente interessante e positivo perché noi poi non siamo solo negativi siamo anche molto positivi però ci stiamo interrogando molto spesso anche con altri genitori in questo periodo sul nuovo ruolo sul ruolo ancora più importante che oggi sta cominciando ad avere il neuropsichiatra nel senso che mentre ieri diciamo sulle spalle del genitore gravava enormemente il peso della decisione e della scelta oggi fortunatamente cominciamo a fare pace fra di noi quindi fortunatamente non c'è un metodo migliore di un altro ma ci sono diversi autismi diversi metodi e diversi metodi efficaci anche forse per lo stesso soggetto autistico in periodi diversi il problema qual è adesso però che il neuropsichiatra è chiamato dopo la valutazione ad esprimersi in maniera un po' più come dire puntuale su quello che dovrebbe essere il metodo che il bambino deve cominciare a seguire quindi prima in realtà eravamo noi a decidere in qualche modo con la responsabilità di farlo nel bene e nel male adesso però è il neuropsichiatra o almeno in alcuni casi lo è mi domandavo siamo arrivati anche a un buon punto per quel che riguarda la formazione del personale e degli operatori abbiamo detto che si possono formare in un anno un anno e mezzo a prescindere poi che si vogliano certificare a livello europeo in Norvegia eccetera eccetera però gli operatori li abbiamo formati e la figura dell'europsichiatra voi adesso come la vedete nel senso che quando parliamo del dottor Valeri come neuropsichiatra va bene ha seguito un suo percorso magari anche come posso dire preposto a scegliere per me quello che è meglio per mio figlio però naturalmente se quello del bambino Gesù è una best practice e vogliamo anche magari in un futuro poterne usufruire in diversi sistemi sanità in diverse offerte di servizi sanitari che non sia quella del bambino Gesù voi vi siete posti il problema di come fare con il neuropsichiatra cioè spesso il neuropsichiatra non conosce ancora assolutamente nella differenza tra i metodi né soprattutto a livello territoriale chi li offre perché ovviamente fortunatamente adesso c'è questa stella brillante del bambino Gesù che insomma in un certo modo no? è ben visibile ci sono anche io lo dico con molto affetto e stima perché mia figlia è seguita in un altro centro ABBA diciamo di altro tipo però sinceramente lo sforzo fatto il percorso fatto dal bambino Gesù oggi in Italia rappresenta un punto fermo però mi chiedevo proprio per tutti quegli altri genitori che stanno seguendo con i più piccoli un percorso che noi abbiamo già fatto in precedenza si trovano spesso di fronte a neuropsichiatri beh insomma non dico non preparati però quantomeno ignoranti nel senso che ignorano e come si risolve questo problema perché i corsi di formazione sugli operatori ne stiamo facendo e ne stiamo facendo tanti ma col neuropsichiatra c'è la possibilità di grazie allora credo che i neuropsichiatri abbiano altrettanto bisogno di essere formati su queste tecniche quanto gli altri operatori lei ha colto un punto fondamentale di come sta cambiando il lavoro del neuropsichiatra io ancora io sono quest'anno sono 30 anni che lavoro in questo campo qui e ancora dieci anni fa ma anche otto anni fa il problema principale era la diagnosi discutere la diagnosi discutere su appunto la mamma frigorifera eccetera ora il mio compito è assolutamente diverso il mio compito si è la diagnosi ma è insieme al genitore capire per quel bambino in quel momento del suo sviluppo qual è tra le diverse terapie scientificamente fondata quella più adeguata allora questo c'è un problema di formazione continua di tutti noi le dico soltanto io il mese scorso 15 giorni fa ho fatto il corso early start per model io a 54 anni mi sono messo perché ritengo che se voglio fare una cosa che non mi basta studiarlo sulla 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 carta mi sono andato a fare il corso vuol dire con 5 persone col bambino mettermi lì a giocare per terra col supervisore che mi diceva guarda stai sbagliando questo però per dirle quanto c'è un problema di formazione continua che deve essere una responsabilità di qualsiasi specialista anche 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 esperto poi c'è lei invece pone un problema serissimo di formazione delle scuole di specializzazione in neuropsichere infantile lì è un disastro cioè esistono scuole di neuropsichere infantile e sono la maggioranza in cui le persone escono senza conoscere minimamente che cosa è la terapia comportamentale o neocomportamentale se non semplicemente che rende il bambino un robot cioè non una conoscenza critica ci mancherebbe altro credo che l'intervento di Powers questa mattina sia stato estremamente interessante non esiste soltanto l'OVAS nel verbal behavior è un universo e per alcuni bambini non va neanche bene quello bisogna fare altre cose se va bene per i bambini ma il problema è che nelle scuole di specializzazione andrebbe reso obbligatorio per chi si vuole occupare di disturbi dello sviluppo la conoscenza critica dell'intero dell'intera gamma degli strumenti terapeutici che sono evidence based quindi lei coglie un problema secondo me molto molto chiaro e va affrontato a livello di scuole universitarie va affrontato a livello di formazione obbligatoria per chi si vuole occupare di autismo è assurdo che chi sia un neuropsichiatra uno psicologo uno psicomotricista un educatore che si vuole occupare di autismo nel servizio pubblico e si può permettere di ignorare completamente ad esempio tutta la metodologia EBA cioè è assurdo puoi decidere che non la applichi che continui a non applicarla insomma ti assumi la responsabilità ovviamente di non applicarla anche dove è corretta ma la devi conoscere la devi conoscere bene quindi credo che il suo intervento sulla formazione del neuropsichiatra come di tutte le altre figure abbia colto un punto nodale Potremmo aggiungere anche gli psichiatri degli adulti che ricordiamoci anche dei poveri adulti perché la maggior parte della vita dei nostri figli la passano da adulti ricordiamocelo ogni tanto diciamo che in parte con queste ultime domande le idee un po' si sono chiarite però la mia domanda era questa chi certifica queste associazioni che sono nate come funghi che fanno terapia ai bambini cioè in questo senso chi le certifica e soprattutto chi le controlla e ogni quanto le controlla secondo me questo andrebbe inserito nelle linee guida perché se no noi vogliamo che facciamo linee guida alla perfezione e se poi manca l'ultimo anello chi certifica e chi controlla e siamo da capo a 12 grazie posso fare un commento allora io quello che vorrei dire è che allora ci sono servizi accreditati a livello regionale e servizi non accreditati i servizi accreditati sono pochi e vengono però accreditati secondo i criteri stabiliti dalla regione e quindi riguardano in re i servizi accreditati purtroppo la briccia nel muro di un po' di uno deve aspettare due anni la stessa per cui uno è costretto a rivolgersi certo io parlavo delle associazioni private non parlavo di una briccia nel muro le associazioni private non c'è non c'è modo di certificarle cioè si può fare ufficiosamente nel senso che per esempio un centro come il Bambi Gesù può dare delle indicazioni però non è non è la stessa cosa dell'accreditamento in realtà ufficialmente non può essere fatto certo noi come associazioni rappresentative e sottolineo rappresentative e rappresentative significa associazioni indipendenti che non hanno conflitti di interessi che sono inclusive di varie disabilità e che sono accessibili comunque democraticamente sia nelle loro cariche che nelle assemblee a tutti diciamo che le associazioni rappresentative avrebbero l'ambizione magari di essere ogni tanto coinvolte anche nel monitoraggio di quello che si fa non esiste per legge ma credo che sarebbe un vantaggioso per tutti se si trovasse il modo però per ora è così non ci sono certificazioni ufficiali e posso aggiungere che faceva parte del progetto e fa parte del progetto anche quello lo accennavo prima di poter sviluppare dei criteri di verifica e di affiliazione non solo con la pediatria di base quindi a monte ma anche con le strutture neuropsichiatria psicoterapia terapia comportamentale tutte le strutture che si consideri debbano essere poi coloro i quali prendono in carico il paziente sul territorio e l'idea sarebbe quella di poter ambiziosa forse però è quello che serve di mappare a livello nazionale delle strutture dove inviare i pazienti dove poter avere con loro anche dei momenti di formazione quindi certificare per certi versi questa formazione e anche supervisionare quindi il follow up di questi pazienti nel tempo per vedere che effettivamente siano seguite queste linee questo è l'unico criterio di qualità perché per il resto formalmente è corretto ci sono i centri accreditati che però ricordavamo oggi hanno anche delle necessità di smaltire un sovraccarico legato ad altre assenze poi in realtà grazie chiudiamo allora Giovanni sì praticamente le conclusioni le avete fatte voi con le ultime tre o quattro domande e con le ultime risposte del dottor Powers e di tutti cerco di riassumere un po' il concetto dello scenario dell'offerta dei servizi dell'esigibilità dei servizi perché noi partiamo da un'organizzazione sanitaria vecchia quando ancora non sentivamo parlare di tutti quei concetti che abbiamo sentito parlare dal professor Persico e della genetica il risultato delle linee guida nuovi approcci educativi di educazione speciale eccetera eccetera questo vuol dire che e l'avevo accennato un attimino stamattina io nei miei saluti che non è non ha seguito l'organizzazione sanitaria non ha seguito lo sviluppo della scienza della medicina e dell'educazione noi siamo rimasti fermi lì quando io vi dicevo stamattina che se vuoi accreditarti un centro di ambulatoriale in Calabria ma in quasi tutte le regioni d'Italia devi dichiarare di fare psicomotricità logopedia e musicoterapia perché sono questi tre codificati solo queste tre attività sono codificate nello scenario dell'ambulatorio allora voglio dire anche le strutture accreditate come dicevamo prima per l'ultima domanda non sono una garanzia nemmeno queste cioè effettivamente non sono sono legali ma non sono una garanzia sono legali perché erogati dal pubblico erogati dai privati siccome si tratta di riabilitazione o per meglio dire di abilitazione le attività di riabilitazione sono attività sanitarie quindi devono sottostare una disciplina di accreditamento cioè ogni regione ha una disciplina di accreditamento a prescindere poi dal contratto o meno con l'ASP con l'azienda sanitaria per avere il rimborso delle spese ma anche per farlo come dire a pagamento dovresti avere un servizio accreditato non è un servizio accreditato perché viene mascherato con servizi perché ancora ragioniamo sulla psicoanalisi la psicoanalisi non fa terapie come dire sanitarie e quindi tutto viene nascosto alla sanità quindi nemmeno nel pubblico c'è una garanzia di efficacia della cura tra virgolette perciò che cosa dobbiamo fare oggi come responsabilità per esempio delle associazioni dobbiamo fare sì che che l'offerta dei servizi cresca in coerenza con l'offerta con la nuova conoscenza della medicina allora dobbiamo agire sulle per ogni regione perché non basta più la linea di indirizzo per fare modificare il regolamento di accreditamento delle regioni quindi l'offerta dei servizi sia nella qualità sia nella quantità quindi dobbiamo agire e fare in modo che le regioni che sono purtroppo titolari della sanità per questa patologia perché dovrebbero essere solo a mio parere titolari del portafoglio della spesa è giusto questo ma non è giusto che alle regioni sia lasciata la scelta della terapia del tipo di educazione da applicare perché non hanno le competenze non possono avere le competenze è già difficile per un ministero come dire sentivate stamattina pomeriggio la dottoressa di Fiandra il frutto di tante compromessi scriviamo un documento frutto di compromessi è già difficile farlo a livello nazionale pensate voi che significherebbe tutto ripeterlo in venti regioni perciò le associazioni che hanno un ruolo io rivendico un ruolo forse forse con troppa enfasi mi domando qualche volta che sono le associazioni che debbono avere il ruolo di propositivo verso l'istituzione perché sono le associazioni con la loro esperienza in quanto genitori di persone con autismo che sono i testimoni delle buone prassi mi piacerebbe sempre dire le buone prassi in Italia si verificano solo quando i genitori lavorano con i professionisti e allora se è vero questo in generale ovviamente dovrebbero essere le associazioni titolari dell'indirizzo del servizio e dell'organizzazione sanitaria è una grande sfida per un'associazione come la nostra vi ho detto stamattina che nemmeno oggi e questa è una testimonianza che forse vi faccio riflettere che forse è passata nella mia lettura velocissima che nemmeno oggi nelle piazze dove noi siamo collegati adesso e saluto tutti quelli che spero che ancora ci sono che ci ascoltano troverete persone che accettano o vi richiedono il contributo noi non chiediamo contributi la dottoressa Vivanti diceva siamo associazioni libere e vogliamo restare associazioni libere e credibili perché non vogliamo avere conflitti di interessi non chiediamo soldi a nessuno cerchiamo di essere propositivi vogliamo il riconoscimento di questo ruolo è difficile però poi come dire applicarlo in ogni regione perché ci vuole un'organizzazione che noi non abbiamo perciò mi permetto di concludere questa è la prima volta nonostante sia la sesta giornata mi pare mondiale sull'autismo è la prima volta che si parla in un modo diffuso ed omogeneo quasi in tutto il territorio nazionale speriamo che con questa sensibilizzazione e con questo come dire nuova responsabilità che riusciamo con questi messaggi a trasmettere agli amministratori rimusciamo a fare breccia nella loro idea di organizzazione sanitaria che non vuole sempre spendere di più vi faccio un esempio un'ora di riabilitazione cosiddetta di psicomotricità non ce l'ho con la psicomotricità va bene per qualche altra cosa voglio dire costa 49,99 euro e non è un'ora sono 45 minuti perché loro ti calcono il minuto che entri che esci aspetti il caffè la pausa eccetera perché è giusto che tra un'ora e un'altra ci sia un attimo di pausa per l'operatore 50 euro 50 euro sprecati buttati addirittura gli fa male quella quell'ora di attività a una persona con autismo come avete sentito dire può essere che gli fa male pure l'ABA perché deve essere proprio personalizzato l'intervento sui suoi bisogni sui suoi caratteristiche figurati che se facciamo come dire fabbriche di psicomotricità in Italia o di logopedia capite quindi sono soldi sprecati noi non vogliamo altri soldi vogliamo che non si sprechino questi soldi per fare sì che invece ci siano delle attività mirate in linea con la medicina basata sull'evidenza ma in linea con il progresso della medicina che tutti i giorni ne sentiamo una di nuova ma non non è esigibile per i nostri figli cioè il dramma non è non sono la mancanza di risorse il dramma è la distanza tra la conoscenza e l'applicazione pratica a beneficio delle persone con autismo questa è una sfida che che lascio come dire e rilancio come responsabilità alle associazioni dei genitori per quello che possono fare non è loro responsabilità di questo ma è loro responsabilità di promuovere e di rimuovere con ogni mezzo questa distanza grazie questo distanza grazie 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 a tutti grazie a tutti